Quest'anno è un duplice anniversario, 140 anni di collaborazione tra la Scala e Edison e 12 anni della prima diffusa. Che bilancio possiamo trarre? Un bilancio assolutamente positivo, di grande soddisfazione, di grande orgoglio perché dopo 140 anni siamo ancora insieme a realizzare una magia che si verifica a Milano, la nostra città di origine, ogni anno il 7 di dicembre e negli ultimi 12 anni, grazie alla manifestazione della prima diffusa, abbiamo reso questa magia appunto diffusa in tutta la città, aperta e disponibile a tutte le persone che sono a Milano in quella giornata e che possono godere di uno degli spettacoli più belli del mondo. Quindi possiamo dire che siete riusciti a far crescere il numero degli appassionati a tutte le età e anche di qualunque stazione sociale? Sì, la manifestazione di prima diffusa ha proprio come obiettivo quello di utilizzare la leva della cultura attraverso una delle sue forme espressive più alte che è l'opera come strumento di inclusione sociale, di progresso culturale, di stimolo alla riflessione anche a seconda dei temi che sono trattati ogni anno dentro il contesto dell'opera.